Probabile cambio della guardia alla guida dell'ospedale di Polla. Il primo a dare la notizia è stato il presidente della conferenza dei sindici dell'ASL, Sergio Annunziata, che sulla propria pagina di Facebook ha scritto Ringraziamo l'amico direttore sanitario Aristide Tortora per la preziosa opera svolta in quest'anno nella direzione dell'ospedale di Polla e gli facciamo un grande in bocca al lupo per il nuovo incarico presso l'ospedale di Scafati. Nello stesso tempo diamo il benvenuto e l'in bocca al lupo al nuovo direttore sanitario di Polla, Mandia. Il condizionale però è d'obbligo, visto che sulla stessa pagina Facebook lo stesso Tortora ha replicato Caro Sergio, a questo momento non ho ricevuto alcuna comunicazione da parte del direttore generale e valuterò al ricevimento dell'atto la valenza dello stesso e se avrò margini decisionali, se accettarlo o meno. Se alla classe politica che mi ha apprezzato, tu tra questi, alla classe medica e agli operatori e ai sindacati fa piacere resterei volentieri a Polla sino all'espletamento dei concorsi in maniera da avvicinarmi a casa quale vincitore di concorso e non quale nominato. Dunque staremo a vedere cosa accadrà. Per la cronaca Luigi Mandia nell'ultimo anno era stato inviato dal direttore dell'asile squillante come commissario presso l'ospedale di Nocera insieme a Spinelli per affiancare il direttore sanitario Francesco D'Ambrosio. In particolare Mandia aveva l'incarico di occuparsi dell'organizzazione dei lavori interni. In precedenza aveva lavorato all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona a Salerno.